Lucia Rossi, segretario nazionale dello SPCGL, oggi a Pescara questa riunione dei tre sindacati dei pensionati per parlare della manifestazione del 19 maggio a Roma ma anche delle problematiche dei pensionati in Italia e in Abruzzo. Noi pensiamo che sia giunto il momento di aprire un confronto con il governo perché il tema della condizione degli anziani, della povertà in cui sta scivolando una parte, una fetta importante dei nostri rappresentati che sono ovviamente pensionati e pensionate che stanno vivendo una situazione di grandissima difficoltà perché qui come altrove hanno contribuito a sostenere le famiglie in un tempo, in un momento di crisi, sono state il vero ammortizzatore sociale che oggi però rischiano di scivolare in una povertà assoluta che noi non possiamo permetterci. In questi anni l'Abruzzo è un abruzzo impoverito, ci sono più di 350.000 persone a rischio di povertà di cui più di 50.000 sono i minori che sono a rischio di esclusione sociale. Basti dire che la spesa sociale abruzzese è di 61 euro pro capite, quella nazionale, la media nazionale è di 117 euro quindi c'è un gap molto alto su cui bisognerebbe intervenire con misure, con azioni concrete, leggi che mettano in grado questa regione di rilanciarsi non solo dal punto di vista del lavoro che rimane il primo problema ma anche dal punto di vista delle risposte che vanno date in una situazione di crisi.